Buonasera, ho avviato il mio cronometro, vi annuncio che l'arcata è circa di un'ora, ho chiesto di fare un intervento un po' più lungo dell'altra volta perché l'altra volta era un pezzo di 20 minuti, questo è un pezzo di un'ora e tre, un'ora e quattro e quindi francamente avevo bisogno di qualche spazio in più per volare meno o per correre meno il rischio di parlare veloce che è il primo dei miei rischi. Allora, prima di arrivare a questo immenso capo, parto dicendo che non so quanti di voi abbiano già ascoltato i Kafka, francamente, ma l'avventura dell'ascolto dei Kafka è una delle grandi avventure dell'ascolto musicale, non della musica cosiddetta contemporanea della musica to cure, cioè parto dicendo che il Kafka veramente a mio parere, no, non è a mio parere, è vero, è un ciclo di tale peso che se devo guardare indietro posso solo dire Winter Rise, cioè quegli immensi cicli fatti di tante piccole cose che però montano un'unità di percorso e con, vi preannuncio, una reazione d'ascolto, vedrete che sarà così perché è così per tutti, di entrarci a poco a poco, cioè sui primi, che saranno anche quelli che vedremo più a fondo adesso, direte beh sì, un piccolo pezzo, poi a poco a poco, poco a poco ci si entra e quando si arriva all'ultimo immenso pezzo, immenso perché è meraviglioso, immenso anche perché è molto più lungo degli altri, dura sei minuti quando ce n'è qualcuno di 30 secondi, vorreste che non finisse mai. Quindi, come dire, anche per quanto mi riguarda è un po' l'impressione di essere il famoso togliti i calzari perché sei tu sul terreno sacro, no, che viene da dire, infatti ringrazio molto Sandro, che adesso credo non sia ancora arrivato ma c'è una cosa seria che sta facendo quindi spero che arrivi, per avermi dato la possibilità di parlare di una delle cose che amo di più, forse un po' in assoluto, certamente una delle cose da dita di due mani rispetto a tutto ciò che sta scritto dal secondo dopoguerra in avanti. Intanto, Giorgi Kurtag, Giorgi Kurtag è, anche qui è un'opinione ma la difenderei con forza, è il più grande compositore vivente, vivente è che Dio ce lo conservi a lungo perché quest'anno compie 98 anni. Ma, a quanto mi dice qualcuno, pare che stia scrivendo un'opera in questo momento, il che, se pensiamo che la prima ci ha messo più o meno 30 anni a farla ed ha esordito nel 2018 quando aveva 92 anni, vuol dire avere una buona speranza di vita, se è così. Adesso ne ha 98, nato nel 1926. Allora, parto citando un episodio, sinceramente, lo faccio spesso parlando di Kurtag, quindi magari qualcuno degli amici presenti me l'ha sentito dire, però è un episodio formidabile per cogliere subito qualcosa della persona e personalità Giorgi Kurtag. E poi a mano a mano dirò anche perché, perché dico il più grande, il più grande anche come modello, non solo per la musica che scrive ma anche per il suo modo di essere e di essere musicista e compositore. L'episodio si esiste nel 1945. Nel 1945 due giovanissimi e poverissimi studenti di composizione del Conservatorio di Budapest, che però non vivevano a Budapest ma vivevano in Transilvania, dove erano nati, vengono a sapere, è la fine della guerra, che il loro mito, il loro punto di riferimento, il loro, non voglio dire Dio, ma insomma il loro punto di riferimento, Bela Bartok, dicono che si è aperto ad andare in Ungheria e insieme i due giovanissimi studenti, visto che non hanno soldi per fare di più, affittano un localaccio in Budapest, letteralmente per aspettare l'arrivo del Messia, dovrei dire, cioè per attendere l'arrivo di Bela Bartok. Bela Bartok, sappiamo, non torna mai in Ungheria perché morì negli Stati Uniti nello stesso 1945. I due giovanissimi studenti di composizione erano Gheorghi Kurtag e Gheorghi Ligeti, cioè se volete metà della musica europea della seconda metà del Novecento, come dire, due dei cuori della musica europea del secondo novecento. Perché l'ho citato in questo episodio? Non solo perché è bello, no? Anche perché dà un'idea subito della natura, della personalità e delle attitudini musicali di entrambi, tra parentesi. Cioè, che cos'era Bela Bartok per loro? Era non solo il grande musicista ungherese, ma era tutto il senso della tradizione. Bela Bartok, certo, noi lo pensiamo come il compositore, pensiamo ai suoi concerti pianoforte orchestra, eccetera, ma Bartok aveva incominciato, come dire, scrivendo un po' alla list, un po' alla tardo list, cioè le sue radici erano in fondo nel tardo romanticismo austro-ungarico, no? Perché questo era l'Ungheria in quel momento. In più, Bela Bartok è colui che ha incarnato la cultura ungherese, in più è colui che ha aperto questa strada meravigliosa del contatto con la musica del popolo, andando col famoso grande registratore nel 1905 a registrare i canti popolari di villaggio in villaggio dell'Ungheria, della Romeria, della Transilvania, eccetera. Quindi, Bela Bartok era per entrambi, al di là dell'ammirazione, era il loro stesso senso della tradizione, il loro senso dell'appartenenza. E questo è di enorme importanza per entrambi, da lì fino alla fine della loro attività compositiva, che per curta, che però non è ancora finita, risulta. Cosa succede poi? Poi succede, per parlare sempre dei due insieme, che nel 1956, invasione sovietica, Ligeti lascia definitivamente l'Ungheria, ci ritornerà, credo, solo dopo il 1991. E cosa succede? Va, ad esempio, essendo di tradizione ungherese, tradizione ungherese-bartokkiana, una tradizione che ha un po' detestato tutto ciò che era dodecafonia e poi serialismo, non si recca nel tempio darmstadtiano delle avanguardie seriali, si recca dall'altra parte, cioè nello studio di fonologia di Colonia, di Köln, perché in fondo, se ci pensiamo, la musica di Ligeti poi dovette, ebbe un grosso debito verso gli andamenti a fascia sonora, che erano della musica elettronica. A dire la verità, erano anche di Bela Bartok, in senso strumentale, quindi c'è continuità. Ma da lì in avanti, Ligeti diventa un grande compositore ungherese, non è vero che viene apprezzato immediatamente, passeranno tutti gli anni, perché in fondo era un po' anomalo rispetto alla corrente principale, quella seriale, quella delle avanguardie Bulesian, Stokkausenian, Berrian, eccetera, eccetera, di quel genere lì. Kurtag, Kurtag non esce dall'Ungheria immediatamente, ci esce un anno dopo, per due anni, nel 57 e nel 58, per studiare a Parigi con Messiaen, ma, a differenza di Ligeti, questo soggiorno parigino in realtà gli butta molto male sul piano psichico, dovrei dire, ha una grossissima crisi depressiva, da cui è importante dirlo adesso, perché ne uscì attraverso il lavoro, come dire, il contatto, eccetera, eccetera, con una psicanalista, tal Marianne Stein, che è la dedicataria dei Kafka Fragmente, scritti però 28 anni dopo quell'incontro parigino in termini di crisi depressiva. Perché è importante? Perché Ligeti a quel punto nel 58 torna in Ungheria e i due destini, Ligeti, perdon, Kurtag naturalmente, torna in Ungheria e i destini dei due compositori saranno diversissimi. Ligeti diventerà poco a poco una sorta di star europea, arriviamo fino alla musica usata da Kubrick nel cinema. Kurtag rimane nella sua Ungheria e diventa, ed acquisca l'altro aspetto di ammirazione profonda per questo uomo e per questo musicista. Il suo modo di fare musica, di fare il compositore, è in tutto e per tutto quello di un monaco. Cosa vuol dire? Vuol dire una sorta di assoluta umiltà. Facciamone degli esempi. Non insegnò mai composizione. Chi più di lui poteva farlo? Che aveva una conoscenza della storia, di tutte le tradizioni. Motivo? In fondo perché non se ne sentiva all'altezza. Attenzione, queste prossime tre non sentirse all'altezza. Io ho avuto qualcuno, Sandro Gordi l'ha frequentato molto, è stato anche col divertimento d'ensemble. Io ho un inimenticabile incontro nel suo studio alla Budapest nel 2018 con circa due ore e mezza di colloquio. Certo, sentir dire che lui non osava insegnare composizione e io, ahimè, insegnavo composizione. Eccetera, e adesso vi dirò gli altri due, io diventavo sempre più piccolo, piccolo, volevo sotterrarmi. Non ha mai insegnato composizione perché, ripeto, non la sentiva cosa per lui, così come non ha mai, ha cercato di non parlare mai della sua musica. Ha sempre insegnato musica alla camera. Altro esempio di modo di stare nella tradizione. cioè stare nel suono, nel suono suonato, nel suono della musica di tradizione e, molti lo sanno, ha insegnato musica alla camera in maniera, cioè diventando uno dei punti di riferimento dell'insegnamento della musica alla camera, grandi quartetti, grandi pianisti hanno studiato con lui, ma sopportando questo cilicio estremo per il fatto che l'insegnamento era un insegnamento maniacale. Quando venne a Milano e gli fecero insegnare musica alla camera per fare in modo che parlasse col pubblico, che si mostrasse al pubblico, fu un'esperienza, ad esempio, il trio della cui pianista era in quel momento mia moglie, non riuscì come a qualcuno a cui lei disse ho fatto un'ora e mezza di lezione con Kurt Dagg, la risposta, in questo caso di Alexander Lonkic, fu quante battute hai fatto, perché era difficile andare oltre l'ottava battuta, perché, ma perché, non perché fosse un maniaco, perché Kurt Dagg ha in mente un suo suono e fino a quando non sente quel suono insiste e ripete perché insegue un suono, il suo modo di insegnare era questo, essere nel suono, essere nella storia, essere nella tradizione. Andiamo avanti. La seconda delle cose che sapevo, mi ha sentito dire direttamente e fa un po' impressione. Se si guarda il catalogo di Kurtagg si accorge che il primo pezzo per orchestra scritto è stato scritto nel 1994 quindi quando aveva 68 anni. Motivazione data da Kurtagg perché non mi sentivo in grado di controllare una grande compagine e il modo di farlo scrivere per orchestra fu l'astuto invito di Claudia Bado a diventare compositore in residenza presso la Berliner Philharmoniker e naturalmente quando fu in residenza Bado gli disse va beh ma noi cosa suoniamo di te che non è mai scritto per orchestra e nacque questa commissione ma attenzione il pezzo che ne uscì Stele per grande orchestra non ho dubbio alcuno nel dire è il più bel pezzo dell'orchestra degli ultimi 50 anni. È un immenso capolavoro ma era la prima volta che scriveva per orchestra però. L'esordio come l'ho detto poco fa in campo teatrale avviene nel 2018 a 92 anni ma chiedendogli ed era fin di partita da Beckett chiedendogli maestro quando ha incominciato a pensare a quest'opera quanto ci ha messo lui mi aveva guardato e mi ha detto ma nel 1957 quando ho visto per la prima volta Fender per il finale di partita teatrale di Beckett in scena il che vuol dire una gestazione praticamente quarantennale e tra l'altro dicendogli beh che bello adesso la faranno lui mi rispose sì credo che possa andare in scena ma ci sono molte cose che non vanno bene che dovrò rivedere questo detto a 92 anni è fantastico perché indica un sentirsi costantemente in cammino e lontano da ogni riflettore per questo parlo di Monaco la concentrazione la concentrazione è sul fare musica sul fare musica lontano dai riflettori lontano dalle mode non è mai stato un compositore di moda e infatti no vi dico prima un'altra cosa il fatto di non essere di moda vuol dire che era un compositore era ed è un compositore libero cioè un compositore che media i suoi materiali musicali da tutta la storia può scrivere una tria di do maggiore adesso una serie d'orecafonica tra poco un cluster qua ma non per eclettismo che sarebbe una cosa non bella ma perché ogni materiale è metabolizzato ogni materiale fa parte di lui fa parte del suo rapporto con la storia ed essendo una persona libera usa quello che in quel momento serve per incarnare la sua idea musicale per fare questo ci vuole un'immensa consapevolezza ma anche una sorta di immensa innocenza cioè sapere di poterlo fare anche se si dirà ma come questo lo capirete subito dall'inizio del primo pezzo l'unico riferimento che riesco a fare ad un altro compositore è Niccolò Castiglione in Italia che negli ultimi 15 anni o 20 anni della sua vita fece esattamente la stessa cosa da un certo punto di vista cioè usava materiali che facevano dire di lui beh ormai fa queste cose strane ma invece aveva metabolizzato l'intero percorso della musica europea e tutto era suo e questo per Kurt vale moltissimo andiamo un passo più avanti stavolta ho dei piccoli appunti davanti a me perché se no mi perderei perché l'amore per lui e per quello che andiamo a ascoltare è tale che sforerei sicuramente l'amore che è un altro segno diciamo di umiltà l'amore infinito per le microforme i pezzi di Kurt adesso guardo Federico Gardella i brani di Kurt difficilmente superano i due minuti quando sono di come in questo caso un'ora è perché sono 40 pezzi il più corto credo che duri 20 secondi 25 secondi una cosa così di lungo è solo l'ultimo di semilungo c'è anche quello della seconda parte però lungo vuol dire tre minuti e mezzo no voglio dire non è che stiamo parlando l'ultimo lunghissimo per Kurt che sono sei minuti che rispetto alla durata di un pezzo di musica non è che sia l'infinito questo fatto di passare di adorare la microforma di adorare piccoli nuclei di strumenti da cui il fatto di arrivare all'orchestra solo a 68 anni di adorare strumenti che non gli permettevano poi di approdare in occidente con la sua musica perché l'uso che fa dello zimbalon è un uso cioè c'è spessissimo nella musica di Kurt e in quegli anni lo zimbalm in occidente non ci arrivava tanto e questo impediva una circolazione della musica di Kurt e come notate in questo caso microforme che possono però in certi casi costruire grandi forme come grandi percorsi come somma di tante microforme da cui non riesco a non dire che i due riferimenti indiscutibili da fare quando si parla di Kurt sono Schubert da una parte e Webern dall'altra cioè la condensazione estrema la necessità estrema in un organismo estremamente corto che però in certi casi vedi questo è messo in modo da costruire un'immensa arcata andiamo avanti Georgi Kurt in Europa occidentale è fondamentalmente sconosciuto adesso esagero quello sconosciuto ma pochissimo circolante fino a 1980 attenzione vuole dire che aveva 54 anni non era un ragazzino lui stava nella sua Budapest insegnando musica da camera scriveva scriveva spesso per se stesso e basta eccetera ci sono infiniti i suoi pezzi il cui titolo è una dedica in memoria di eccetera eccetera perché il suo modo di comporre era un modo come dire di dialogare con la carta era un modo del tutto personale di confessarsi con la carta che aveva davanti fatto per se stesso al di fuori dei percorsi ufficiali della musica chi lo tira fuori chi lo lancia è un verbo che non mi piace comunque va bene Pierre Boulez Pierre Boulez che viene a conoscere quel guarda caso quel suo grande ciclo di pezzi per voce pianoforte e cioè i detti di il nome non mi ricordo Bornemisa è il cognome è un poeta ungherese un ciclo degli anni i primi anni 60 62 e 63 di pezzi di pianoforte di una difficoltà pianistica mostruosa io l'ho sentito una volta sola dal vivo di una complessità di una sprezza estrema anche in quel caso microorganismi che montavano un grande ciclo a quel punto Pierre Boulez gli commissiona un brano per l'antar contemporane Kurtag esce totalmente dai tempi della commissione consegna il suo pezzo con un grosso ritardo credo di anni e guarda caso è un secondo ciclo è un altro ciclo di brani per soprano e in questo caso di ensemble e cioè gli ultimi messaggi della signorina Trussova detto in italiano perché si può vedere in francese io in ungherese non lo dirò mai su un ciclo di poesia della poetessa ungherese molto poco nota in occidente che era Rima Dalos un ciclo di poesia francamente una poetessa nata nel 1944 quindi più giovane di lui quindi parliamo di tre tappe la terza è questa fondamentali costituite in tutti e tre i casi da cicli di brani vocali per voce pianoforte voce e 15 strumenti le ultime parole non mi ricordo grosso modo sto guardando Sandro sperando che me lo dica ma non me lo dice e in questo caso voce violino quindi andiamo avanti perché ho citato il fatto che è stato Pierre Boulez a portarlo per la prima volta all'antarca contemporanea cioè in Europa e da no vi devo dire una cosa importante anche vagamente personale la prima esecuzione italiana che sappia io degli ultimi messaggi della signorina Trussova venne fatta se non mi sbaglio la biennale di Venezia questo è il mio ricordo personale dico la data perché era la data della mia prima volta alla biennale di Venezia diretta esattamente da Sandro Gorli ed era il 4 ottobre 1981 due giorni dopo ve lo dico per questo non per dire che c'ero anch'io tra l'altro io fui così cretino da non fermarmi alla sera al concerto con la prima esecuzione di Kurtag perché neanch'io conoscevo tanto questo compositore o anzi conoscevo pochissimo vidi una critica non vi so dire ma se lo sapessi non ve lo direi su un importante giornale di un importante critico e il titolo era sostanzialmente ma chi è costui perché era stata tale l'impressione dell'ascolto del ciclo e c'era una tale sproporzione tra il peso musicale la bellezza l'intensità la profondità di quel ciclo e il fatto che quel compositore in occidente c'era pochissimo da generare una domanda che questo critico piuttosto noto giuro che non mi ricordo il nome però non sarebbe carino dirlo confessò la sua ignoranza come titolo del suo articolo tutto sommato da lì davanti Kurtaghe è sicuramente più eseguito in occidente ma perché lo dico adesso quando arriveremo a parlare di uno dei due brani più lunghi che è Hommage Message a Pierre Boulez vedremo ne parliamo tra poco in realtà sembra esserci nel testo e nelle scelte musicali una sorta di ironia intanto non c'è scritto Hommage Kurtaghe ha scritto un sacco di pezzi omaggio a omaggio a ma qui è omaggio messaggio a Pierre Boulez e quando leggeremo il testo di Kafka l'impressione è che sotto sotto forse neanche tanto sotto sotto si graffi un po' nella dedica Boulez ma il grado in fondo dovesse moltissimo a Pierre Boulez va bene arriviamo adesso ai Kafka sì cosa farò io adesso siccome ho parlato dei moltiplici materiali contenuti materiali musicali no devo dire scusatemi una cosa molto importante Kafka frammenti perché? qual è il testo? il testo sono letteralmente frammenti tratti dai diari e dalle lettere di Kafka quindi non da opere letterarie di Kafka ma da scritti personali di Kafka frammenti scelti frammenti assolutamente fulminanti io adesso non so perché credo che voi abbiate o nei cellulari ma spero invece in un foglio non so che ecco si vedo esatto i testi ve lo dico perché io riuscirò a parlare di una decina dei 40 pezzi perché se dovessimo parlare di 40 pezzi sforiamo ogni tempo vi prego vi prego si lascerà anche un pizzico di luce in sala di leggere sempre i testi di ogni pezzo perché i legami testo-musica di questi brani sono a volte evidenti a volte meno evidenti ma sono sempre fulminanti tra l'altro la loro brevità richiede che si colga se voi non leggete i testi saranno solo dei bei pezzi di musica ma il senso profondo che ha ciascuno di essi e che ha la curva intera di Kafka risiede nella scelta dei testi e nella scelta della concatenazione dei testi per cui è fondamentale sapere cosa sta per essere detto dalla nostra Beatrice e tra l'altro devo dire devo dare già in partenza tutta la mia ammirazione per i due amici musicisti perché per noi sarà un grande viaggio l'ascolto ma per loro è abbastanza un inferno nel senso che un'ora erotti di non c'è nessun pezzo strumentale lei canta sempre beh è un viaggio infinito anche dal piano esecutivo ultima cosa prima di entrare un po' nel dettaglio dei pezzi la stessa scelta strumentale non so credo che non sia del tutto una scelta che sia stata poco sembrale ma di fatto parlavo di umiltà beh immaginare concepire un ciclo di tale profondità di tale spessore restringendo però la gamma strumentale a disposizione a non voce e pianoforte in fondo è pianoforte ha tante possibilità di registro voce e violino neanche voce e violoncello che ad esempio aggiungerebbe la regione grave o comunque il violoncello può andare dal grave fino all'acuto no il violino in fondo è un altro soprano soltanto che va un po' più in acuto diciamo e cioè voce è un suo specchio strumentale la voce è come se fosse sola specchiandosi in uno strumento che può esagerarla estremizzarla dialogare contrapporsi eccetera eccetera ma il suono in fondo è un solo suono e riuscire a concepire questa cosa per 40 pezzi di durata totale un'ora è davvero di uno spessore e di un virtuosismo compositivo un po' senza pari secondo me allora i 40 pezzi sono divisi in 4 parti le 4 parti sono fortemente asimmetriche cioè la prima parte sono i primi 19 brani la seconda parte è un brano solo però un po' più lungo dura 3 minuti anziché i soliti 20-30-40 secondi la terza parte è fatta da 12 brani la quarta da 8 brani quindi 19-1-12-8 quello che farò io adesso è vedere bene bene no insomma nelle mie capacità vedere un po' meglio insieme ai nostri due amici i primi 5 perché 5 perché a mio parere nella mia visione montano quasi una sorta di micro ciclo di ciclo nel ciclo non so se è pensato così non mi interessa ma funziona abbastanza bene parlarne in questi termini per esempio il quinto parte da un materiale analogo a quello del primo adesso senza dire niente in partenza vi chiedo di eseguire il primo dei brani il testo ce l'avete ma lo dico i buoni marciano a tempo sarebbe senza che gli uni lo sappiano gli altri quelli che non sono buoni però danzano intorno a loro le danze del tempo le danze del tempo in gleicher Schritt in gleicher Schritt ohne von ihnen zu wissen tanzen 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 come si può immaginare con quale coraggio con quale incoscienza con quale innocenza si può incominciare un ciclo di un'ora con un violino che che fa la cosa più stupida del mondo c'è un'oscillazione tra un do e un re per tutta la durata del pezzo si per tutta la durata del pezzo mettetela mettetela pensatela pensate come può essere accolto un esordio di questo genere in un contesto come un festival di musica contemporanea degli anni 80 a dire ma questo qui mi prende in giro cos'è questa roba per bambini peggio che cosa fa la voce aggiunge la quinta sopra per cui diventa il primo dei materiali che ritroveremo spessissimo nei Kafka frammenti è l'intervallo di quinta l'intervallo di quinta che è il terzo armonico il primo suono prodotto dagli armonici sono le corde vuote del violino so e la mi queste lo posso suonare lui lo posso fare anch'io sono le corde vuote del violino è la prima forma di polifonia nella storia della musica occidentale nell'undicesimo secolo giù di lì è il candore da questo punto di vista ma infatti il testo qual è? i buoni marciano a tempo e la traduzione che ho visto è procede in pari passo ma dovrebbe essere più opportuno il marciano a tempo e infatti ritmicamente che succede? la più stupida delle cose la totale isocronia ma perché? perché marciano a tempo e siccome sono buoni e questa è l'innocenza vanno per quinte con la consonanza perfetta si chiamava la consonanza perfetta questa no? subito dopo dice senza che gli uni lo sappiano suppongo che siano i buoni gli altri e ahimè gli altri dai buoni chi saranno mai? i cattivi suppongo non so gli altri però danzano intorno le danze del tempo ed ecco che se io guardo adesso avrete sentito che lei improvvisamente diventa nervosetta non so come dire saltellante eccetera che materiale è? adesso mi sposto e per questo ringrazio molto avermi dato l'uso del pianoforte perché se no era un po' difficile fare queste cose senza pianoforte è quasi una serie di odecafonica nel senso che se io le suono una a una non alla velocità di lei perché non sono capace ma adesso le suono così va bene le suono così dopo ne parliamo fino a qua sono tutte diverse sono dieci poi c'è una ripetizione di questa questa è l'undicesima il fa e questa è la dodicesima cioè c'è qualche ripetizione ma nel giro di una riga cioè nel giro di uno di vanno si può dire una battuta perché non c'è la battuta nel giro di pochi secondi vengono dette le dodici note ma che materiale utilizzano? attenzione uno dice serie dodecafonica beh non è una serie perché ci sono delle ripetizioni ma soprattutto due elementi quasi subito si fa un arpeggio di un accordo maggiore dopodiché c'è un intervallo nettamente prevalente che sono le quinte perché da qui diventa do sol re e sarebbe sol re un'altra quinta poi mi la quinta si bemolle fa quinta la bemolle re bemolle quinta sol bemolle do bemolle quinta per fermarsi su questo mi bemolle e siccome è l'ultima nota la dodicesima nota la voce si imbambola e gioca si ferma su queste qui che erano le ultime due note fa e mi bemolle le ultime due note dette che sono un altro tono intero esattamente come del violino scusatemi adesso non dico tutto poi c'è un finale che dice le danze del tempo del tempo e c'è un gesto velocissimo su cui adesso non mi fermo perché è un'altra quasi edizione non totale delle 12 note cosa mi interessa la coesistenza di materiali totalmente estrani tra loro dal punto di vista della storia della musica quinte giuste esplicitissime banali non lo so innocenti candide lui può farlo se lo fa un altro diventa una sciocchezza fatto la curta no perché poi succederà il finimondo però e quindi può permettersi un materiale di questo genere per quello che succede dopo o comunque per dar colpo a un significato perché gli altri danzano intorno a loro e danzano nel tempo io non sono bravo come lei e non posso farla veloce però la sequenza vocale è un su e giù che esecuzione è un su e giù molto veloce ed è un danzare ma con lo stesso materiale detto prima perché sono tutte quinte ma quinte che montano totale cromatico mi verrebbe voglia di dire di rifarlo potete rifarlo una seconda volta perché adesso ho detto queste cose è un rischio lo faremo solo sul primo di rifarlo tutto il testo Ohne von innen zu wissen, tanzen, 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 behandeln, umsiebile in die Danze der Zeit. Ohne von innen zu wissen, tanzen, tanzen, umsiebile in die Danze der Zeit. Il secondo, certo legame c'è, ma incomincia a essere più mediato. Il testo, l'avete lì, è come un sentiero in autunno, non appena viene ripulito si copre nuovamente di foglie secche. L'allusione è naturalmente a tutti noi, cioè non appena ci ripuliamo ci sporchiamo di nuovo. Immagino che il significato di Kafka fosse questo. Cosa succede? Strumentalmente, chiedo solo la parte strumentale per un momento, mi sembra evidente il gesto della ripulitura. Un vento che passa veloce, te lo posso chiedere? Eccetera, ci sono parecchie altre scale, però è proprio un portavie. Nel frattempo la voce fa dei percorsi, e da qui in avanti li troveremo tante volte, che sono dei percorsi o divergenti o convergenti. In questo caso è, cioè una parte va in su, l'altra va in giù. Per fermarsi su mi, non vi parlerò sempre, non voglio essere troppo tecnico, ma per far capire come vengono scelti i materiali. Facciamo la prima parte con le scale e fermatevi dopo l'ultima scala sua. Ok. Il testo ha detto fino a qui, come sentieri in autunno, ma quello che importa è la seconda parte del testo. Cioè non appena viene ripulito si copre nuovamente di foglia secca. E quindi la seconda parte è che evidentemente contiene una sorta di ironia. E infatti che cosa ne succede? Succede che il violino si disperda nell'acuto, in alcuni armonici acutissimi, che tendenzialmente vanno un po' in su, perché le note sono così. Sembri in su. La voce, in maniera un po' mascherata, fa una specie di scala cromatica discendente, perché... Alla base c'è questo. Scusate. Ah, sono messo male. Mentre il violino sale. E evidentemente l'allusione qual è? Boh! Si copre nuovamente di foglia secca, è un po' in ironia, si disperde completamente la pulizia. Giusto perché fate la parte finale, va così, dopo le scale che avete sentito prima. Bedenkt er sich ed er mit der Frau gneblette. Vado avanti velocemente. Terzo pezzo. Qua i legami, i legami, i testo musica sono abbastanza evidenti, non come il primo, e molto ironici. Perché il testo, questo, dire Kafka è evidente. I nascondigli sono innumerevoli. La salvezza soltanto una. Ma le possibilità di salvezza sono tante quanti i nascondigli. Sono quei tipi di testi kafkiani che fanno girare la testa, no? Naturalmente. Come mette in scena questa cosa? Lo mette in scena con la stessa trasparenza del primo. Cioè, i nascondigli sono innumerevoli. Diventa che nella voce è un frammento di cluster. Cioè, di cluster vuol dire un grumo di note. Fa, fa, fa diesis, mi, mi bemolle, fa, sol, sol diesis, fa diesis. Cioè, sono tutte le note qui dentro. Il violino, voi sentirete un violino che salta dappertutto, acuto, grame. Ma le note sono una scala cromatica discendente. Perché lui fa do, si, si bemolle, la, sol diesis, sol naturale, scusate. Fa diesis, con un do, fa naturale, mi, re diesis. Alla velocità, a questa velocità però, soltanto le prime tre battute. Cioè, lo sappiamo solo noi che era una scala cromatica, ma è impossibile saperlo. Però lo è. Ma, questo è per dire, i nascondigli sono innumerevoli. Come mette in scena la salvezza? Ma mio Dio, con l'intervallo di quinta. Ma non con l'intervallo di quinta, con le quinte vuote del violino. E con la voce che canta, mi, la, re. E questa è l'innocenza assoluta. La salvezza, sono le corde vuote, la pulizia, lo stato originario, tutto quello che volete voi. Uno potrebbe rovesciare le cose e dire che la salvezza è il vuoto, ma insomma, questo non lo so. Per me è più la consonanza originaria, la quinta, la corda non toccata, no? E infatti, quando il testo si impasticcia, perché il testo dice, ma le possibilità di salvezza sono tante e quante nascondiglie, lui fa un bellissimo gioco di interpretazione testuale nascosta, ma molto, molto... di grande fascino, perché poco dopo il violino farà le quinte giuste, ma fatte in scala cromatica, cioè la mi, si bemolle fa, stavolta salgono la mi, un semitono sopra si bemolle fa, un semitono sopra si fa diesis, un semitono sopra do sol, un semitono sopra do diesis sol diesis. In pratica, monta un totale cromatico di quinte giuste, ma perché le salvezze sono come i nascondigli, ed ecco che i nascondigli erano un totale cromatico in scala cromatica. La salvezza erano le quinte, la salvezza, che sono innumerevoli come i nascondigli, diventano delle quinte in totale cromatico. Cioè, sono sottili giochi ironici, che però determinano il colore totale del pezzo. Il pezzo dura? 20 secondi? Facciamo che... no, non vi chiedo di farlo tutto, se no vado fino a... non so quanto duro. Però, deve essere chiaro, questo rapporto, fino adesso ho nominato in fondo due materiali e mezzo, la quinta giusta, la consonanza pura e originale, un totale cromatico messo in forma di serie, mio Dio, un omaggio all'occidente adodecafonico, eccetera, e il cluster, cioè un grumo di note. Sono materiali che afferiscono a regioni espressive, storiche, totalmente differenti, ma sono presenti insieme perché, come dire, incarnalo l'intenzione espressiva di Georgi Kurtac, che non ha alcun problema utilizzare questi materiali, se usa una serie di elemento d'orecafonico, se usa una quinta giusta, sono un neoconsonante, no, usa quello che serve per incarnare un'immagine poetica. Passiamo, no, preferisco passare a quello dopo, che si chiama Ruhelos, ma non è inquieto, è senza pace. E qui, infatti, cosa succede? Succede che il materiale base è proprio la scala cromatica, cioè il totale cromatico, però ho fatto l'agliolino con una specie di grido, adesso te lo faccio fare, ma, cioè, è una scala cromatica discendente che gioca a metà con doppie corde. Ma veloce, non così, e lei per una volta fa poco e si limita a gridare senza pace, no? Però, se ci pensate, la scala cromatica che farà il violino, adesso la sentite, non fa altro che esplicitare quello che era contenuto per due volte nei due pezzi precedenti, ma che francamente solo con l'analisi si può sentire, non si sente a orecchio. Qui si sente molto bene, prego. Ruelos Io sto un po' scherzando, però questo è il modo di gettare in faccia a tutti noi il senza pace, no? Cioè, è un precipitare verso l'abisso della quarta corda vuota che poi alla fine esplode, perché una volta toccata la quarta corda vuota risale vorticosamente facendo... E poi si allarga e finisce così... Con una grande ottavona così che è il massimo che possa fare il violino effettivamente in larghezza. E cioè è un precipitare a tratti dall'abisso della quarta corda vuota che poi deflagra soltanto dicendo per due volte, prima gridando e poi sussurrando senza pace. Veniamo al quinto, perché ho detto che qui in qualche modo si chiude un piccolo ciclo? Ecco, si chiama Bersoeuse. Bersoeuse prima, ma non c'è una Bersoeuse seconda, lo vedo adesso. Vabbè, Bersoeuse. E il testo per una volta è meraviglioso, cioè per una volta vuol dire... E sono tutti meravigliosi, ma per una volta è dolce, volevo dire. Cioè avvolgi con il tuo mantello, oh nobile sogno, il bambino. Che cosa ritroviamo subito all'inizio? Eccola qua. La quinta giusta. E questa quinta giusta nel corso del pezzo si deformerà, diventerà, adesso poi la sentirete. Però alla fine questo percorso polifonico un po' strisciante si chiude alla fine sulla quinta giusta più normale possibile, cioè la terza e la quarta corda vuota. In fondo, violinisticamente, il pezzo è tutto un passaggio da questa quinta vuota a quest'altra. Una sorta di, ai musicisti presenti, cadenza plagale. Una sorta di quarto primo giocando sulla quinta. E la quinta adesso sparirà per un bel po' di pezzi. Per questo io ne parlo come di un piccolo ciclo. Perché ha esposto i tre materiali base su questa quinta. Adesso questo ve lo faccio suonare. Su questa quinta, in realtà, la voce fa un dolce canto, ma certo sfiora il totale cromatico. Non ci sono serie di mezzo, perché sono molte ripetizioni, ma certo dice le dodici note. Eppure è una sorta di dolce canto di Berseuse sopra una quinta vuota che diventa polifonica. Eppure è una sorta di dolce canto di Berseuse sopra una quinta. Questo finale iperungherese è con la quinta vuota. Ma con la voce canta il do in mezzo, con la quarta. Che potrebbe essere un'appoggiatura di un accordo maggiore, ma ho la doppia quinta, do, so, re. Quanti pezzi di Bartok usano questo, questo agglomerato armonico? Cioè la quinta riempita con questa seconda maggiore, ma quel do contrapposto al re, sono il do e il re del primo pezzo. Quello con cui oscillava all'inizio, questo. Anche per questo mi piace vederlo come un piccolo ciclo. Adesso faccio una cosa. Passo attraverso, dico senza esecuzione o se non chiedendo un piccolo aiuto, dico qua e là delle cose su alcuni dei pezzi della prima parte, molto velocemente, per indicare delle caratteristiche dei pezzi. Ad esempio, pezzo numero 11, titolo domenica 19 luglio 1910. Ah, eccola qua, scusate, questa era la versione della seconda, effettivamente. Il testo, perché ne parlo? Perché l'inizio vocale e anche violinistico, qui basta sentire la prima riga, è da una parte quasi tematico, perché fa un gioco di trasposizione, dall'altra parte è puro teatro, perché il testo ripete per due volte dormire, svegliarsi, dormire, svegliarsi. Sarà la chiusa finale del pezzo, che adesso non sentiremo, a dire che misera vita. Ma sentiamo un attimo cosa succede nel doppio, solo la prima riga, fino al secondo Aufgebacht. Aufgebacht! Grazie. Intanto, ironia, teatro, svegliarsi, come è, scusate, dormire è un frammento dolcissimo, svegliarsi è uno scatto. Ma su quali materiali? Svegliarsi è quasi un tema. Questo potrebbe essere un bellissimo Mi minore. Potrei fare... Potrei farlo così. Sono anche le tre note della passacaglia del Piero Lunner di Schoenberg, però. Terza migliore in su, terza maggiore in giù. Ma la cosa che colpisce è che, fregandosene, scusate il termine, di quello che si potrebbe dire rispetto a un pezzo contemporaneo, ne fa una trasposizione, perché poco dopo, prima fa così, ma poi farà così. Lo ripete trasposto. Proprio la trasposizione di un frammento, è come quello che si fa nei temi, nei pezzi tonali, insomma, no? In mezzo, il suo iperveloce, quindi poco percepibile dal punto di vista armonico, svegliarsi, è un oggetto di una provenienza armonica, di una provenienza totalmente diversa, terribilmente viennese, che è il tritono e la quarta giusta. C'è un gioco tra, come dire, senza problemi, tra consonanza, per dire dormire, e dissonanza, tritono, quarta giusta e sette maggiore esterno, per dire svegliarsi, e la stessa cosa dopo, perché... Quinta e tritono, che è la stessa cosa, usando in questo caso, con tutta tranquillità, il concetto antico di consonanza e dissonanza per incarnare il dormire e lo svegliarsi, senza paura o senza problemi, e paura che venisse presa come un didascalismo, eccetera. La chiusa del pezzo ve la lascio. Vado avanti, nomino un altro pezzo, e cioè, per parlare di teatralità sua, di senso del teatro, il numero 15, perché il testo, il testo è simpaticissimo, sul manico del bastone, la passeggia di Balzac, io abbatto ogni ostacolo, sul mio, ogni ostacolo mi abbatte, sembra Woody Allen, l'antenato di Woody Allen. La cosa meravigliosa è su quali materiali dice, fa la citazione, perché inizia col violino solo, la voce parla e dice, sul bastone da passeggio di Balzac, ma lo dice parlato, il violino, beh, senza commenti, fate sull'altro la prima riga. Per gli amici musicisti presenti, il primo, quarto, quinto, quinto, sesto armonico, come si diceva, sesto abbassato dell'armonia tonale classica, senza problemi, ma ve lo vedete sto Balzac che dice, io abbatto ogni ostacolo. Il fatto è che poi, gli stessi accordi, li usa anche per dire quello che c'è sul suo di bastone, ma li usa a marcia indietro, cioè torre indietro, e poi finisce male, pianissimo pure. Ve lo vedete Woody Allen in questo senso, ma questo Balzac che fa una cadenza di sol maggiore col quinto o sesto armonico, madonna se sbagliavo questa, e invece ripiegarsi, il tornare indietro, richiudendosi con un passaggio di semitono, che è questo, per dire no, sul mio c'è sito al contrario, è un esempio di teatro musicale. Arrivo direttamente, non vi dico nulla, l'ultimo della prima parte sarà una sorpresa, lei griderà in molti modi il suo no, tutta la prima parte, quella di 19 pezzi, finisce con un grande no urlato, ma ve lo lascio dopo, anche perché meglio, ecco bravo, siamo amici, non voglio, tutto questo invece per dedicare qualche parola in più, viceversa, sul brano dedicato, ma attenzione, omaggio messaggio a Messiaan, perché si, Boulez, testo, vediamo come lo prendete voi, intanto il titolo, La retta via, parlando di un po', un pizzico di dogmatismo francese alla Boulez, la retta, la retta via, vuol dire che c'è qualcuno che ci dice qual è la retta via, ma il testo dice, la retta via corre lungo una fune, che non è tesa in alto, ma appena sopra il suolo, sembra destinata più a fare inciampare che a essere percorsa, messaggio a Pierre Boulez, io lo leggo tranquillamente dicendo, caro mio, tu vuoi avere la retta via, attenzione, perché quella retta via lì, forse è più adatta a fare inciampare, che non per essere percorsa in alto, in maniera potente, lo leggo giusto o sbagliato, non lo so, però certo che cosa fa la musica? La musica fa, posso chiedere la prima riga di violino solo, non sto trovando il pezzo, ma l'inizio di violino solo, scusate, questo lo fermo, perché sta facendo delle robe che non so, mi mancano dieci minuti, vai. E se ti chiedessi di suonare, per favore, hai la stessa impaginazione immagino, la seconda battuta della ultima riga della prima pagina, quella basata sul re invece. Ok, grazie. C'è un'ambiguità formidabile, perché in realtà, questo modo di strisciare sul violino, è basato in realtà sull'intervallo nemico delle vanguardie, cioè sull'ottava, perché in realtà si inizia con un sol che poi è un'ottava sporcata, io non posso fare i quarti di tono che ci sono lì, è un'ottava sporca, ma è un'ottava, però è sporca, e cioè, quando si sporca diventano gli intervalli cari alle vanguardie, semitono, nona minore, microtoni, eccetera, ma in realtà è un'ottava. Peggio, la seconda delle ottave su cui sto ferma, è l'addominante, è il quinto grado. Peggio, il brano finirà con la ripresa dell'inizio. Come non leggerci il gioco di ambiguità tra un materiale vietato come l'ottava, ma mascherato, distorto, eccetera, ma c'è. La voce, quando entra, entra anche lei, su questo sol sporco, entra in realtà sulla tritono quinta giusta, ma quando fa tritono, fa la più grande dissonanza, ma quando fa la quinta giusta, fa la più grande consonanza. questo mettere in dubbio la retta, la retta via sarebbe dire che non si fanno le ottave, quindi si fanno gli altri intervalli, ma quell'ottava lì dentro c'è. È difficile, almeno io la leggo in questo modo, nessuno me l'ha detto ed è il mio modo di vederlo. Sta di fatto che chiamarlo omaggio messaggio a Pierre Boulez, dare questo titolo, intitolarlo la retta via, e poi dicendo, stai attento perché la retta via è una cosa che può fare inciampare, è adatta più a fare inciampare che ad essere percorsa. Fare dei giochi di ripresa è uno dei pochi pezzi in cui c'è una vera e propria ripresa finale, ad esempio, la ripresa è la cosa più abborrita possibile da tutto ciò che deve essere d'avanguardia. Giocare su queste ambiguità mi sembra il modo di mettere in scena una retta via che può essere percorsa o fare inciampare, di grande intelligenza, ed è ancora più netto, perché in realtà questo pezzo da solo, che è il più lungo di quelli che sentirete nella prima parte, costituisce da solo la seconda parte ed è il pezzo centrale, il pezzo numero 20 sulla base dei 40, cioè il cuore è questo. Bene, siccome si sta facendo tardi, vado avanti, soltanto dicendo, devo fermarvi un po', ho bisogno di qualche minuto sull'ultimo pezzo però. vorrei fare un accenno, nella terza parte c'è anche un vero e proprio teatro, nel numero... Ah beh no, prima vi devo accendere a un testo, un testo che potrebbe essere il simbolo perfetto di, in questo caso, di Kurtag, e cioè la mia cella, non ho messo i segnalini e la sto pagando un po', la mia cella, la mia fortezza, cioè il suo essere monaco, il suo essere chiuso e anche la sua forza e la musica sarà, non suoniamola adesso, una sorta di organum, cioè una sorta di andamento lentissimo, ma molto più lento di così però, tutto di quinte, suona praticamente medievale e quindi questa immagine da Monaco credo che funzioni particolarmente bene per questo pezzo. Ci sono pezzi di puro teatro, quando vedrete lui andare al secondo violino è perché uno dei testi ed è l'ultimo della terza parte è un racconto, una scena teatrale, cioè la ballerina Edoardova, una grande amante della musica, andava sempre in giro e così pure in tram in compagnia di due violinisti. Lui è uno solo ma ha due violini, uno dei due è scordato ed è molto più grave, è scordato più in giù del primo e quindi questa alternanza di violini che suonano diversi darà l'immagine di un doppio violinista. Lì dentro in quel pezzo, lo sentirete dopo, tanto avrete il testo, c'è ad esempio una sorta di waltzer, si gioca anche con elementi musicali particolarmente espliciti. Termino con l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo viene sempre in mente, non ha lo stesso colore e sapore, però viene in mente un po' Der Amschid di Mahler rispetto al canto della terra di Mahler. Intanto, gli altri durano, fino a qui saranno passati 55 minuti per 39 pezzi, ma l'ultimo e dura circa 6 da solo. Quindi è il doppio del più lungo di tutti, fino a qui, ma è 6 volte tanto la durata degli altri. Il testo, il testo deve scoperto strada facendo, però tanto ce l'avete avanti, quindi no. Il testo contiene una sciabola, una vera e propria, un colpo di pugnale finale, cioè inizia la notte, la notte lunare ci abbagliava, oddio, è anche vero che i verbi sono sempre negativi, cioè è una bella notte, però la luna abbaglia, non illumina. Gli uccelli non cantano, mandavano grida di albero in albero, questo è vero. E nei campi si udivano frusci, cioè comunque è un'immagine notturna leggermente sinistra, cioè non è un'immagine notturna sciopegniana, insomma, serena, però è un'immagine notturna, ma l'ultima riga, non è un verso perché non sono poesie, è noi strisciavamo nella polvere una coppia di serpenti. E qui finisce il ciclo. Come hai fatto quest'ultimo pezzo? Qui scende un po' in campo sul piano della macroforma, cioè lo divide in maniera esplicita in zone formali molto precise, molto relativi al testo, è quasi tematico perché all'inizio del violino, dai fammi solo iniziare, è una melodia e questa cellula è un canto sostanzialmente e se non ci crediamo basta vedere che quando la voce entra, entra con le stesse note, non te le faccio, no, non te le faccio, te le faccio. Cioè entra leggermente deformata, ma è la stessa cellula sostanzialmente. Il primo, la prima riga, il primo, viene da dire verso, ma non è così, la notte in unare ci abbagliava, viene messa in scena con una voce che a un certo punto inaspettatamente, non ce l'aspetteremo, fa un comportamento estremamente storico, scritto con delle alterazioni veramente bastarde, perché re diesis, mi diesis, fa doppio diesis per dire mi bemolle, fa sol, santo cielo, no? E comunque fa una scala per toni interi per gli amici musicisti e con un ritmo così. Sembra Debussy, le epigrafie antiche Debussy hanno una cosa quasi esattamente così e se uno non si convince, poco dopo, la stessa cosa è fatta con le note della scala di do maggiore, cioè... Il violino non fa la stessa cosa, però l'immagine della notte lunare viene messa in scena con l'evocazione di un canto che viene da lontano, con una melodia che si avvale di materiali storici, cioè una scala per toni interi e una scala di do maggiore, se per quello, cioè fino a qui sembra che siamo avviati verso una notte di luna e questa è la prima parte e la prima parte. Dopodiché, gli uccelli che gridano sono messi in scena in modo veramente descrittivo. Dai, posso chiedere almeno questo? La pagina... Cos'è? Terza pagina? 72. Le nomi di battuta qua? Quando poi lei fa il cucù, insomma. Esatto. Esatto. Facciamo la parola? Sì, vai. Sì, più o meno da lì. Ok. E da qui il violino diventa veramente un uccellino. Ecco. Grazie, se no mi indicchia poi dopo lei. Cioè, la parte sull'aglio che gridano sugli alberi viene messa in scena con il candore della imitatività, molto evidente in questo caso, come, anche per quello alludevo a Mahler, come certe volte fa Mahler quando allude alla natura, senza paura di descrittivismo, diciamo. Ma poi, ma poi, c'è una breve zona che adesso non importa dove, dicendo i campi, si entrano riuscì, ma poi il clima cambia. Entra un violino solo nella regione gravissima, mi fai solo lento rubato all'inizio. No? 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 E' come se fosse un altro strumento, non ha mai toccato la regione grave, si è fermato prima, entra questo violino soffuso, interno, come dire, sinuoso, in questa ripetitività di cellule che si rossono in sé. E da qui in avanti la voce dirà noi strisciavamo nella polvere una copia di serpenti, tra l'altro lui lo chiede, se non lo chiede e lo fai tu, lo fai in maniera meravigliosa. Il cambio di timbro che fai quando dici Einschlanden parla, è meraviglioso questa vocetta un po' cosina, un po' insomma, comunque è una copia di serpenti questa cosa. E da qui in avanti c'è una lunga coda, lunga coda del brano, in cui, come a dare il senso al totale, voce e violino diventano un'unica cosa, in fondo è una coppia di serpenti, si intrecciano, fanno una serie di melismi, il testo è finito, verrà ripetuto alla fine ma non è quello importante, è un'immensa serie di melismi di inseguirsi, virtuosistico, potreste non distinguere la voce dal violino nei comportamenti perché evidentemente in scena c'è questo ritrovarsi in due, in questa notte di luna sì, sono una coppia di serpenti ma questa coppia di serpenti dà anche l'impressione di saper anche sognare, va nell'acuto, si muove molto, l'impressione è che insegua questa luna, che voglia, che vogliano non strisciare perché se no sarebbero sempre in quel grave in cui è iniziato lui, invece voleranno di qua e di là fino a poi spegnersi in questo finale, questo pezzo di sei minuti totalmente incantatorio è la chiusura del ciclo e quando arriverete qua vi risentirete nell'orecchio il do re, do re iniziale capirete tutto questo viaggio di innocenza ma anche di graffio di dolore di ansia di angoscia di ruchelos che arriva fino a questa coppia di serpenti che anelano a qualche cosa che è la luna è l'immenso viaggio di questo immenso compositore di cui non posso che dire il mio infinito amore e non posso che dirvi che per chi non ha mai ascoltato questo ciclo sta per fare un grande viaggio un grande meraviglioso viaggio per chi l'ha già ascoltato rifarà questo viaggio con molta gioia quindi grazie a tutti grazie a voi e a voi grazie 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 a voi Grazie a tutti.